Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale Treblis-Tiberina code a tratti per veicoli scortati nel tratto compreso tra Sansepolcro Sud e Ospedalone-San Francesco in direzione del raccordo Viterbo-Terni. In A1 fare attenzione per personale su strada tra Firenze-Imprunita e Firenze-Scandici in direzione Bologna, sul raccordo Siena-Firenze in direzione Siena a scambio di carreggiata per lavori tra Monteriggioni e Siena e tra San Casciano Nord e Firenze-Imprunita in entrambe le direzioni. Sulla statale 1 Aurelia, senza unico alternato per lavori tra Scarlino-Scalo e Stagno, sulla statale Treblis-Tiberina ha chiuso lo svincolo di Canili in entrambe le direzioni, in alternativa a utilizzare lo svincolo di Bergerito al chilometro 168. Poverse in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!